Relazionarsi con le persone è un vero casino, se siete manager piuttosto che imprenditori oppure gestite dei team di persone sapete di che cosa sto parlando, ma sapete altrettanto bene che sapere gestire le persone in maniera corretta può portare a dei risultati incredibili. Oggi siamo qui a parlare di leadership e lo facciamo con una grandissima esperta in questo campo che è Sabrina Zanino. Ciao Sabrina e benvenuto. Ciao Alessandro, grazie, ciao a tutti e a tutti coloro che ci stanno vedendo e ascoltando. Ti ho introdotto un po' come esperta nel campo della leadership, dici un attimo la tua esperienza, da dove vieni, da quanto tempo fai questo lavoro? Allora io ho lavorato 20 anni in un'azienda multinazionale e sono stata leader per 10 anni, ho studiato tantissimo e ho applicato altrettanto, dopodiché ho deciso che avevo qualcosa da dire, qualcosa da trasmettere, mi sono sentita la responsabilità anche collettiva di mettermi in discussione io per poter essere di aiuto ad altre persone. Oggi seguo sia in gruppo sia singolarmente come coach tantissime tantissime leader che sono imprenditori, imprenditrici, che sono manager, liberi professionisti, che sono allenatori nel mondo dello sport e quindi li seguono il loro percorso di leadership. Avrete sicuramente intuito che la parola del giorno è leader o leadership, quindi la prima domanda d'obbligo che ti faccio è che cosa vuol dire leadership? Partiamo da una domanda difficilissima che quindi è quella della definizione, intanto leadership deriva dall'inglese, dal verbo inglese to lead che significa guidare. Se ci pensi però, se tu pensi a un leader o a una guida hai in mente sicuramente un'immagine totalmente diversa, quindi in italiano non esiste la parola corrispondente, non a caso utilizziamo quella inglese. A proposito di definizioni ce ne sono tantissime, io costantemente ne vedo sempre di nuove, sempre di più. Ti posso dare la mia personale definizione? Per me leadership è l'insieme di competenze per creare un ambiente tale che le persone riescano a esprimersi al meglio. Quindi intanto è un insieme di skills e non una. Ce ne sono veramente tante, io non vorrei spaventare chi ci sta ascoltando o vedendo, sono tantissime. Questo rende l'argomento certamente complesso ma molto affascinante. Si tratta di creare l'ambiente giusto, il leader e la leader hanno una grande responsabilità in questa direzione, favorire il terreno fertile perché ciascuno esprima la miglior versione di se stesso o se stessa e poi la capacità di estrarre le potenzialità delle persone, riuscire a vedere dove le persone ancora non immaginano di poter arrivare. Ecco, questa secondo me è la sintesi estrema del concetto di leadership. Però queste caratteristiche si possono acquisire? Cioè uno che non è portato lo può migliorare oppure è una dote che uno o ce l'ha oppure non ce l'ha? Guarda, dici una cosa che risuona moltissimo perché anch'io da più giovane ero piuttosto introversa diciamo così e anch'io adesso mi ritrovo a sentire commenti di persone che mi dicono vabbè per te è facile e adesso sì, adesso sì, è stato un percorso quindi certamente si può imparare, prendo a prestito qui un concetto molto importante che è quello della pratica intenzionale. Uno dei massimi esperti dell'eccellenza del talento che si chiama Anders Erikson, andatelo a cercare perché ha scritto delle cose estremamente interessanti, ha studiato le persone che hanno raggiunto il massimo livello di successo, lui ha studiato lo sport, ha studiato la musica, ha studiato il mondo dell'imprenditoria e ha fatto tantissimi studi, tantissime rilevazioni da cui è venuto fuori che si può imparare praticamente qualsiasi cosa attraverso questa pratica intenzionale o deliberata che è fatta di studio tantissimo, allenamento ancora di più, quindi imparo qualcosa, lo metto in pratica, lo ripeto, lo ripeto, lo ripeto. Pensa che ha studiato i violinisti, ha scoperto che ciò che differenziava il gruppo di violinisti bravi, famosi ed eccellenti dagli altri erano pensa 10.000 ore di pratica in più di questi, tantissimo. Quindi studio allenamento, un piano di sviluppo, se io voglio imparare a correre, voglio correre la maratona, devo avere un piano se io parto da zero che dica oggi cammino un minuto, corro un minuto, domani aumento e poi ancora devo farmi un piano a tappe che mi faccia arrivare all'obiettivo, ma con una struttura ed un senso. Quindi non vado a caso, bensì mi faccio una vera e propria programmazione. E infine, ultimo elemento, tanto fondamentale quanto sottovalutato, avere dei feedback personalizzati da una persona esperta. Ci deve essere qualcuno che mi accompagni nel mio percorso, mi veda da fuori e mi dica, guarda Alessandro, qui benissimo, continua così, guarda che qui c'è qualcosa di modificare. In questa direzione cambia completamente perché stai sbagliando, se non cambi rotta ti schianti. Ma non c'è nessuno che fa questo, io non so come sto andando, non so se sto migliorando, non so se sto regredendo e quindi non posso migliorare. Quindi se io metto in pratica questi quattro punti, studio, allenamento, piano di sviluppo e feedback personalizzati, posso diventare qualsiasi cosa. Quindi posso imparare anche a essere un leader. Ottimo. E sempre parlando di leadership, immagino che tu negli anni hai parlato, hai conosciuto centinaia, migliaia di manager, imprenditori. Quali sono gli errori più gravi e comuni che hai visto in questi anni? Uno degli errori più gravi che ho visto è autoprescriversi la solitudine. Più si sale nelle gerarchie, soprattutto nelle aziende più grandi, più strutturate, più si sale, più si vive questo senso di solitudine. In realtà anche la storia ci insegna che i grandi e le grandi leader sono in realtà persone che si sanno circondare delle persone giuste, che non significa circondarsi da yes men e yes women, anzi per me è esattamente l'opposto, ma di circondarsi di persone che ci possano influenzare positivamente, di persone che abbiano, dico un'altra cosa che magari fa parte anche della tua esperienza, che abbiano per esempio il coraggio di darci dei feedback. Una delle cose più difficili da ottenere, io me lo ricordo per i dieci anni in cui sono stata leader, una delle cose più difficili è avere feedback reali e sinceri. Perché le persone temono. Ma adesso se gli dico questo poi cambia tutto. Intendiamoci, a volte succede, quindi lo capisco. Però anche il leader e la leader, se non hanno intorno queste persone, come possono migliorare? Non è possibile. E più questo avviene, più il leader in qualche modo macera nella sua solitudine e non cerca il modo per invece avere intorno un network di sostegno importantissimo. Dico sempre, il nostro cervello è fatto da neuroni e collegamenti neuronali. Se tu vedi, non so se è presente la foto dei collegamenti, per me è un grande fascino questo. Allo stesso modo noi funzioniamo perché siamo collegati con le altre persone. Dobbiamo essere collegati con le altre persone. Il famoso network, uno degli elementi di nuovo importantissimi per un leader. Eppure ogni tanto da leader vedo crogiolarsi nella solitudine. Quindi dirò beh, ma io sono solo, mi sento solo, anche un po' ogni tanto un lamento. Quindi questo sicuramente è uno degli errori più grandi. L'altro errore che ho visto fare, che vedo costantemente fare è dedicare poco tempo all'osservazione e all'ascolto. Cioè, e lo capisco, perché spesso le persone si rivolgono ai leader e alle leader per ricevere delle risposte. Quindi siamo molto impegnati, impegnate come leader a dare risposte. È altrettanto importante, non dobbiamo mai dimenticarcelo, fare delle domande. Quindi essere curiosi, fare le domande giuste, ma soprattutto maturare la capacità di trasmettere l'interesse per l'interlocutore o l'interlocutrice, qualsiasi sia. Perché spesso accade che molti manager fanno domande o ascoltano solamente o i loro pari o chi sta sopra di loro. Attenzione che in realtà i spunti di innovazione, le modifiche più importanti, i punti di vista più rilevanti arrivano da altrove. Io quando ero giovane facevo l'operaio, mentre studiavo per pagarmi l'università e c'erano i capi che gestivano l'azienda che ovviamente non è che prendevano mai feedback dagli operai. Quindi c'era sempre questa storia, era l'azienda inizialmente piccolina, poi è cresciuta tanto. Però era carino, prima pontificavano tutte le mille soluzioni, venivano giù, poi non avevano, nessuno aveva esperienza diretta di produzione, quindi venivano giù, cercavano di implementare le loro idee e non funzionavano. E quando erano alla fine, non sapevano più che fare, venivano da noi e ci dicono, ma tu questo qua come lo faresti? Guarda, questa hai fatto una fesseria, se fai così fai prima. Incredibile. Ah, interessante. Però puntualmente ogni volta ripacevano sempre la stessa cosa. È incredibile. È incredibile. Pochi giorni fa ho fatto un viaggio in pullman, ero seduta davanti e l'autista, vedo che continuamente si sistema sul sedile. Dico, ma tutto a posto? Dice, sì, ma questo sedile non è ergonomico. E mi dice, sa signora, perché questo pullman l'hanno appena fatto, ma si sono messi un ingegnere, un architetto e un manager e nessuno ha pensato di chiamare un autista. È incredibile. Eppure su quel pullman, su quel sedile si siede tutti i giorni un autista. Questo è un errore enorme, enorme. Che, se evitassero di fare il mondo, andrebbe sicuramente meglio. Decisamente sì. Decisamente sì. Quindi prendere feedback direttamente sul campo. Esatto. Prima hai parlato un attimo e c'è nato differenza tra leader e capo, no? Spesso ci troviamo, magari per le persone che hanno, tutti noi abbiamo dei capi in un modo o nell'altro, anche noi, magari imprenditori, abbiamo uno, c'è l'imprello, l'imprenditore che non ha capi. No, aspetta, l'imprenditore, il mercato è il capo e non è un bel capo. Il cliente è il capo. Esatto, il mercato, il cliente è il capo e non è un bel capo. Esatto, non è facile da gestire. Ecco, e tante volte abbiamo, ah no, però il mio capo è cattivo, così queste cose e queste cose qui. Che differenza c'è tra leader e capo? Innanzitutto, il capo è egocentrico. Quindi mette al centro se stesso. Il leader mette al centro le persone, mette al centro il business, mette al centro la procedura e mette al centro se stesso o se stessa solo quando deve prendersi delle responsabilità e assumersi delle responsabilità. Il capo è, come dico io, unemotional, cioè tiene lontane le emozioni, è tutto di un pezzo. Il leader è una persona che sa gestire le proprie emozioni, che sa riconoscere le emozioni delle altre persone e soprattutto che sa matchare la parte emotiva con la parte razionale, le fa andare insieme. Quindi queste sono già due differenti, due importanti differenze tra capo e leader. Me ne viene in mente ancora una. Il capo fonda, lo anticipavamo prima, tutta la sua attività sulla gestione delle altre persone. Il leader lavora tantissimo su di sé e contemporaneamente sulla gestione del proprio team. In un sistema continuo di vasi comunicanti, cioè io da leader posso prendere qualche strategia che utilizzo nel people management a favore della mia crescita personale e viceversa qualcosa che io ho imparato durante il mio percorso professionale, applicarlo con successo alla gestione del team. Queste sono secondo me le tre macro differenze, ce ne sono tantissime, però queste sono le macro. Inutile dire che ci sono tanti capi ma pochi leader. Molto pochi. Per questo serve, serve studiare, serve immettersi in questa strada. C'è bisogno secondo me, a maggior ragione in questo momento storico, a tutti i livelli di leader. C'è bisogno nel mondo delle aziende, c'è bisogno in politica, c'è bisogno nell'associazionismo, nello sport, nella scuola, ovunque. Sì, sì, assolutamente. A proposito di leadership abbiamo, hai preparato per noi, per Metaskill, il master strategie di leadership. Ci racconti un po' per chi è questo master e che cosa impara facendo questo master? Allora intanto tengo subito a dire che non è un corso, giustamente tu hai usato il termine masterclass è un percorso. Perché anche qui, torniamo alla pratica intenzionale, meglio un po' tutti i giorni che una full immersion. Ogni tanto vedo quei corsi che durano un solo fine settimana per questa specifica competenza. È vero, ci si immerge completamente nella materia, ma poi rimane poco. Quindi la masterclass dura più di sei mesi. È fatta da un videocorso base, che dà proprio i mattoncini, sai tipo i Lego, quindi base, 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 base. E quello è un videocorso registrato che ciascuno può seguire secondo i propri ritmi, i propri tempi e quando ha la possibilità. In quel corso ci sono tutta una serie di esercizi perché da subito serve fare palestra. Da subito, lo abbiamo detto prima, è importante allenarsi. Dopodiché ci si comincia a vedere ogni lunedì per sei mesi, ogni lunedì sera. Quindi è un tempo ragionevole, un'ora e mezza. Saremo in collegamento streaming, quindi ciascuno da casa propria o da dove desidera, con tutta la flessibilità che questi strumenti ci permettono e andremo a fondo su materie quali la gestione del tempo, la capacità di gestire la comunicazione con se stessi e se stesse. Molto spesso ci occupiamo della comunicazione con gli altri, ma quello che ci diciamo qua è quello che ci fa vincere le partite in realtà. Come mi parlo? Quindi andremo a indagare questo. Capiremo quanto è importante l'intelligenza emotiva, quindi la capacità di capire l'emozione degli altri, sapersi mettere nei panni degli altri senza identificarci. Impareremo a parlare in pubblico. Skill fondamentale, fondamentale da cui non si può prescindere e da cui tante e tante ancora stanno purtroppo distanti. In realtà le abilità di public speaking sono veramente importanti. Impareremo a gestire il tempo e impareremo a non aver più bisogno di dire mi piacerebbe fare quella cosa, ma non ho tempo, perché il tempo esiste. È sufficiente, tra virgolette, sufficiente allocarlo, ma vedremo molte strategie per farlo. Impareremo a individuare dove vogliamo arrivare, quindi individuare i nostri obiettivi, capire dove siamo rispetto a quegli obiettivi e tracciare una strada fatta di un vero e proprio piano di azione per arrivare lì dove vogliamo arrivare. Mi piace sempre dire che prima di chiederci quali sono i risultati che vogliamo ottenere, dobbiamo chiederci che leader vogliamo diventare, che persona voglio diventare. Una volta che ho risposto a quella domanda, allora mi posso occupare dei miei goal, quindi ci occuperemo tantissimo anche di questo, ci occuperemo di capire come fare a fare networking, altro elemento sottovalutatissimo. Capiremo quanto è importante quello che io ho intorno, le persone che io ho intorno, quanto mi influenzano, quanto mi influenza l'ambiente, quanto mi influenza il contesto. La leadership si nutre di contesto storico, geografico, politico. Impareremo tantissime di queste cose, soprattutto siccome saremo, creeremo un vero e proprio gruppo, una vera e propria squadra, saremo un team dall'inizio alla fine e potremo scambiarci delle buone pratiche, perché il corso sarà molto basato certamente sulla teoria che fornirò io, ma tanto sullo scambio, sulla condivisione, sul prendere gli uni dagli altri, ci accompagneremo tutti insieme, saremo compagni e compagni di viaggio. Io e tutte le persone che parteciperanno per poi arrivare alla fine con una due giorni bellissima dal vivo, dove per una giornata intera approfondiremo il public speaking dal vivo, perché è importante conoscere questa abilità anche dal vivo e poi un'ultima giornata in cui prenderemo tutto quello che abbiamo fatto, lo fisseremo bene bene nella nostra mente, ci sarà la possibilità di chiarirci e soprattutto sarà un momento importantissimo per fare network, per cui avremo creato la squadra che mano a mano diventerà sempre più coinvolta, sempre più compatta e finalmente di lì ripartiremo, perché probabilmente da lì si creerà una rete di collegamenti tali che magari rimarrà nel corso del tempo, chissà, capita spesso che poi le persone si incontrino ai corsi, poi creino magari dei progetti insieme, facciano delle cose, perché poi la base valoriale spesso è la stessa e allora è un terreno fertilissimo su questo, io non vedo l'ora di cominciare. Bene, bene, mi hai messo tantissima curiosità, adesso anch'io non vedo l'ora di iniziare perché sarò il primo iscritto al master. Siamo già uno, fantastico. Io subito ne ho bisogno di tutte le cose che hai detto, mi manca, mi manca, mi manca, la vorrei, la vorrei, la vorrei, ecco, quindi io ho preso subito. Alessandra a bordo. Esatto, quindi sarò anch'io come compagno di classe insieme a voi. E no, a parte questo, per chi è adatto, profilo di persona a cui è adatto, invece dimmi anche il profilo a cui, no, tu lascia stare, per te non va bene. Uh, difficile questa. Perché magari non c'è una cosa valida per tutti, no? Allora, ci sono alcune basi fondamentali che se non abbiamo è meglio o procurarcele o fare altro. Un po' di passione per il genere umano. Sì, per il genere umano mi è piaciuto. E che se sono appassionato solo di macchine o di procedure, probabilmente devo fare altro, non è che non vada bene, attenzione. No, certo, esatto. Semplicemente devo fare altro. Grande disponibilità a metterci in discussione. Sì. Questo è fondamentale perché altrimenti non andiamo da nessuna parte e sprechiamo i nostri soldi che non è mai una buona cosa. Certamente sì. Quindi disponibilità a mettersi in discussione. Non essere degli automi, delle macchine. Non essere degli automi, esatto. Non confondiamo questo con l'introversione. Possiamo essere leader e allo stesso tempo introversi. Per fare un esempio, magari così spieghiamo bene, se sono un tecnico informatico e scrivo codice dalla mattina alla sera e non mi interessa, va bene. Continua, va benissimo, va benissimo così. Se è quello che ti rende felice, se è quello a cui aspiri, basta bene. Che non è meglio o peggio, sono due cose diverse. No, 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 assolutamente. Per me non esistono regole. Terzo elemento importantissimo, sapere che ogni persona è essere disposti ad accettare che ogni persona è diversa dalle altre. Un leader o una leader deve avere di base la disponibilità a valorizzare le differenze. Quindi deve essere in grado di capire e di mettere in atto la valorizzazione delle unicità. E deve essere disposto a trovare modalità di comunicazione, modalità di interazione, modalità di attribuzione di obiettivi diversi gli uni dagli altri. Se non siamo disposti a fare questo, è meglio che ci iscriviamo a un altro corso. Ce ne sono tantissimi, tra l'altro, sulla piattaforma. Quindi l'importante è trovare quello giusto per noi. Esatto. Per finire un po', che benefici concreti una persona avrà, potrà avere alla fine del master? Cioè io finisco il master, che cosa ottengo? Ottengo innanzitutto di essere diverso o diversa da prima. Questo è il primo parametro. Quando anch'io mi iscrivo a dei corsi, poi capisco se il corso è andato bene oppure no, se mi rapporto a quello che ero prima del corso. E mi dico, ma sono modificata? Sì, e soprattutto sono migliorata rispetto a prima. Sì. Quindi innanzitutto questo, saremo diversi grazie a questo viaggio. Il beneficio, uno dei benefici principali, lo dicevo poco fa, è avere una maggiore struttura di se stessi. Avere un po' come il governo della propria vita in mano, sapere veramente, avere degli strumenti per capire costantemente dove vogliamo andare, per essere soprattutto protagonisti noi del cambiamento. Questo momento storico, con la pandemia, ci ha insegnato che non dobbiamo più essere resilienti, solo resilienti, cioè non dobbiamo più solo adattarci al cambiamento, ma dobbiamo essere noi attori e attrici del cambiamento. Quindi impareremo a fare questo. Alla fine del master mi piacerebbe che le persone avessero proprio questa attitudine al cambiamento. Non è detto che quello che io ho fatto fino a ieri funzionerà oggi. No. Se io maturo la capacità di orientare la mia mente verso il miglioramento continuo, allora il cambiamento sarà immediato. Altro beneficio, essere più innovatori, innovatrici, più creativi. Noi spesso releghiamo la creatività agli artisti e alle artiste. In realtà scopriremo nel corso di questa masterclass che la creatività è di tutti ed è il pane quotidiano di ciascuno e cambia completamente il nostro modo di lavorare e di vivere. Fammi ancora dire una cosa, io lavoro tantissimo sull'importanza tra equilibrare la propria vita privata con il proprio lavoro, ma soprattutto non esiste una regola. Ciascuno di noi, e questo impareremo a fare, deve trovare il giusto bilanciamento e ogni volta sarà diverso. Quindi magari in un momento storico do priorità a qualcosa di specifico della mia vita perché quello c'è bisogno di fare in quel momento. Altre volte darò priorità al lavoro, ma impareremo tanto a ragionare per priorità al plurale e a capire ogni volta che cosa serve a me, che cosa serve al mio team, che cosa è meglio che io faccia. Quanto tempo ho ancora per i benefici? Guarda, possiamo parlarne anche, io ti ascolterei per ore, quindi ti devo stoppare per motivi di tempo, ma poi tanto so che abbiamo veramente tanto tempo durante il master, anche perché io lo seguirò, quindi dall'inizio alla fine darò lo studente numero uno e anche il più indisciplinato. Ah, indisciplinato, speravo il più disciplinato, il più studioso. No, su questo argomento io sono un disastro, poi ce la metterò tutta, ma qui proprio parto sotto zero. Però almeno ho capito il problema, quindi... Quindi c'è la soluzione. Esatto, cercherò di risolverlo. Va bene Sabrina, è stato un vero piacere ascoltarti, sono sicuro che i ragazzi a casa avranno imparato tantissimo da questa da questa breve intervista chiacchierata e che potranno imparare veramente tanto molto di più durante durante il master ragazzi è stato un piacere e ci vediamo la prossima ciao ciao